in cui il risultato compressivo 12, la storia secondaria del primo grado di Carlo Farini di Bologna in collaborazione con il Museo Circo Arteologico di Bologna ci presenta un racconto per immagini, parole e musica che prende spunto dagli antichi eroi dei basi del Museo Circo Arteologico per arrivare alle spalle della città. Prego.